Ok all'assestamento di bilancio al piano spiaggia comunale dalla maggioranza di Santa Maria del Cedro. Sono questi due punti che più hanno animato il civico consesso tenutosi ieri sera nella città del Sacro Agrume. Proprio per quanto riguarda l'assestamento di bilancio, il capogruppo di minoranza Andrea Napolitano ha espresso molte perplessità. Il comune di Santa Maria dovrà pagare allo Stato ben 133 mila euro per non aver rispettato il patto di stabilità interno del 2010. Ma l'amministrazione a Ulicino fa orecchie da mercante, ha detto Napolitano. L'assestamento di bilancio è stato approvato in maniera frettolosa, visto che non tiene conto che tale cifra graverà sul bilancio del 2011 e sui suoi equilibri. Sempre da quanto spiegato dal capogruppo di minoranza del Movimento Uniti per Fazio, Andrea Napolitano, i 133 mila euro saranno così recuperati dall'erario. 43 mila euro saranno subito trattenuti dai trasferimenti statali, di cui beneficerà l'ente, mentre i restanti 90 mila euro il comune dovrà ridarli di tasca propria. Per quanto riguarda il piano spiaggia comunale, dopo l'adozione avvenuta ieri in consiglio, manca solo l'approvazione definitiva della provincia di Cosenza. Non abbiamo cambiato nulla, ha detto l'assessore all'urbanistica e al demanio Pietro Marino. Dopo la bocciatura che il piano aveva ricevuto nel 2008, perché non si teneva conto della distanza minima di 50 metri tra l'8 e l'8, ha spiegato, siamo tornati al piano del 2004, che rispettava questa prescrizione. Infine, ha concluso l'assessore all'urbanistica, abbiamo adottato il piano dopo aver ricevuto i pareri positivi anche dagli uffici regionali, visto che il piano spiaggia di Santa Maria non è risultato soggetto ai vassi vincoli strategici e ambientali. Ora si attende il parere definitivo della provincia di Cosenza, che secondo Marino dovrebbe arrivare entro un mese. Burocrazia permettendo.